Pronto collega? Pronto collega? Allora proviamo a vedere se il nostro robot funziona e il messaggio che abbiamo registrato viene espresso chiaramente. Bene? Pronto collega? Sì? Sì? Accenda. Bene. Allora proviamo a sentire se il messaggio che abbiamo registrato è legibile. Dalle 26 al 29 dicembre ti aspettiamo al teatro Bergamo. In scena la meccanica dell'amore. Non è vero che voglio sbagliare. Dalle 26 al 29 dicembre ti aspettiamo al teatro di Rifredi di Firenze. In scena la meccanica dell'amore. È uno spettacolo divertente o drammatico? È uno spettacolo divertente. Gli attori. Gli attori. Gli inseriti. Gli inscena c'è Gdalia Nanni di Alessandro Riccio. No perché? Perché si è messo di Gdalia Nanni e poi Alessandro Riccio? Possiamo? Sì? Allora. Gli inscena Gdalia Nanni di Alessandro Riccio. Diretto da Gdalia Nanni di Alessandro Riccio. E poi le domande, le domande, le domande. Se il pubblico non può venire a vedere lo spettacolo cosa può fare? Possono allegramente andare a fare il culo. Possono andare a fare il culo. أوI GM Giàụrano E rafforzano La casa accommodate Del Consiglio Fatso extrem Ç How did Max What the actually And the 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 Food 전� For They Too Sì, 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 sì.